buongiorno meravigliose creature oggi il drago haidar e il meraviglioso paese di matilde vi dà il buongiorno ma matilde che giorno è il giorno in cui è successo il terremoto te lo ricordi chissà bimbi vogliamo spiegare al drago e dare a matilde che giorno è oggi perché noi ormai l'abbiamo imparato vero andiamo a vedere il nostro mitico calendario guardate che cosa c'è in cima il calendario c'è un pezzettino di stoffa che hanno fatto i vostri compagni supereroi con il telaio guardate che bello e passiamo ai nostri giorni della settimana il lunedì è tutto giallo il martedì è rosa corallo mercoledì è verdorino come l'erba del mio giardino e abbiamo visto che ieri infatti vedete che la molletta è ferma mercoledì ieri era mercoledì oggi scorre a giovedì giovedì poi è tutto arancione come i fiori del mio balcone signor calendario buongiorno a lei è ancora fermo a ieri è già bimbi qui bisogna intervenire subito perché se ieri era mercoledì 10 oggi è 11 vediamo un po se ce la faccio con la telecamera a leggerlo sì 11 marzo siamo sempre nel mese del bel mantello e cambiamo anche il il giorno giovedì 11 marzo ciao cuccioli meravigliosi ciao 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 ciao